Buon day, benvenuti in questo nuovo video Cazzo sa l'intro Matteo, grande Eh si, e adesso non so cosa dire, vai avanti tu Allora, oggi siamo di nuovo in compagnia di Matteo e Francesca Ciao Che faranno i nomi Instagram qua sotto, mi raccomando, seguiteci Qui c'è la paglia di nomi Mettete il mi piace, mi raccomando, mettete il mi piace E commentate con hashtag il nuovo iscritto se vi state per iscrivere, quindi siete nuovi iscritti Allora Notizia pazzesca, pazzesca Allora, questa però molto pelota Sono qua per dirvi che stiamo per fare un video dove Francesca Dovrà riconoscere il suo migliore amico, ovvero Matteo Da bendata Hai capito, va bene No, va bene, devo riconoscere No, allora, io ho capito Lei deve riconoscere Devo riconoscere te Sì, devi riconoscere me Io cosa ho detto Sì, ma tu l'hai detto male Io ho detto Francesca, devi riconoscere il suo migliore amico Va troppo lungo, devi riconoscere me Basta Ok, adesso ti c'è Avete capito Avete capito No, migliore amico, bendala Ci vedi? Aia Fermo 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 Fermo, eh Video segnalato per violenza Da un minore Ti ho scritto tirare per chiudere Non ti scrivo le istruzioni Non ti scrivo i prodotti della cosa Allora, adesso noi faremo finta di Cioè, faremo finta Cioè, alzeremo Magari cambiamo posto Magari no Perché sono a te Se già che io sono a destra E lui è a sinistra Poi provi a toccarci il naso Ok, noi non dobbiamo parlare Perché se io ti dico tocca il naso Poi, no, giù che capisci dove sono E devi capire chi è dei due Eh, ma come lo so quando inizio a toccare il naso Come lo so? Ti diciamo tocca il naso Eh, ci senti che ci sediamo di fianco Ok Ah, ok Non devi toccare altro, eh Ok Cioè, nel senso Non è mica che tocchi la ferra Per riconoscere la mia Ok Non è che tocca il naso Matteo Cioè Non ha senso Ok, adesso noi ci cambiamo di posto Forse sì, forse no Forse sì, forse no Non sveglio Allora No, questo è Matteo No No Cannato Cannato Ok, adesso devi toccare Cosa tocciamo? Se dite a dirlo Dici alla te, a Madonna Aspetta Cosa può toccare Per riconoscerci? Il ginocchio Il ginocchio Il ginocchio Eh, sì, però è vero C'è una cosa particolare Su cui potresti, cioè, capire Ok Il ginocchio Vai Che poi nemmeno mi ricordo Che pantaloni ci avevate Il problema Grandissimo Aspetta Matteo Matteo? Tu sei Matteo Quanto sei sicura? Bra Dieci E infatti Sei sicura È giusto Perché ci ho fatto sempre Giusto Infatti ho pensato a questa cosa Bello Adesso Resta pluviale Non lo so io Che è giusto Ah Te l'hai stato sicuro Matteo Sì Giuseppe Mi fa tutto Un paio No Non sono stato io No Ok Adesso Deve toccare le mani State che mi tocca Guglianelli Questo anche È difficilissimo Deve toccare le mani Le mani Tocco gli anelli Perché sennò Perché sennò Troppo facile Ok Ma ragazzi Che ne so Aspetta Dai Non lo so Aiuto Allora no Matteo Quindi No Dai Matteo Dai Matteo Dai No No Io sono a sinistra Dai Io lo dico No Io lo dico Ho sbagliato Sì Ho sbagliato Sto volando Ma che c***o Risi Che me stai Ah Raga Mi viene a cambiare Filiamo il video Lo rivedo Ok Adesso Adesso Come si chiama Questo Da questa parte del braccio Avambraccio Qual è l'avambraccio Avambraccio Aspetta Che è tipo qua Oh Tocca il bulcio Qual è il bulcio Ok vai Che collo Raga Mi prendono pure in giro Oppure Aiuto Matteo Aiuto Matteo E l'altro Io ho fatto tipo La faccia Tipo Ho aperto la faccia Le mani gelare Spera 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 Adesso Adesso Tipo qua Questa parte del collo Come si chiama Il polso Il polso Ok Che sarebbe il pomo Però No Non è il polo Ma che il polo Non lo sfermo Aiuto Non lo so Aiuto Matteo qua No Dai Matteo qua che me la pedo Stai cantando tutti Però Tutti Stai sbagliando Non è vero Adesso Francesca Dai No Stavo dicendo Ma le mani hanno fatto Giuste No In realtà Seri Due No ma che giù Si Non è vero Si Se non sbaglio Due Quella della mano Non è sbagliata Allora Ricominciamo da capo Quelli che abbiamo fatto Dopo Non possiamo fare Di epilogo Perché non capisci Nel senso Non è chiuso ai biscotti Oh ma questo va da me Dai Ti pare che mi permetterà Di fare una roba Dei geni Prendete Mi pare Sopra di No Adesso La mettete in del polso Dai Ok adesso 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 Il gomito Il gomito Il gomito Difficilissimo Ma se c'avete tipo Felponi Così No Eh si Cosa fai Raga non riesco Cioè Non so Che Andossate Matteo E l'altro Chi è Giovanni Cioè Ti sto facendo segno Continuo a toccarti il colpo Con il gomito E te Matteo Dall'altra parte Ha toccato Ok adesso Adesso Che ne so Cosa abbiamo Altre due cose No Il naso L'abbiamo fatto No L'orecchio L'orecchio Ma Sbello Qua non c'erano l'orecchio L'orecchio L'ho perso L'orecchia Ok C'erano Perché però Mi si sta Dibolzando Ok Ok Non so Non so Che parte Sto andando Aiuto Dai Dai Che non riesco Dai Dai Ma questo è Matteo Non so Non so Che non riesco I capelli E l'altra parte Non è Dobbiamo Ripare Con l'orecchio Eh Non ha funzionato Hai detto Hai detto I capelli Cos'è Io ti dico Riconosce Gli occhi Mettiti proprio Vicino Con l'orecchio Così Lo trovo Subito Ok Vai Vai Aspetta Aiuto Dai Matteo a destra Dai Ma palese Perché Perché l'orecchio Era più Era più Perché stai ridendo L'orecchio Era più L'iscio Sto morendo Sto morendo Io rinno Non ho parole Di qua No Ok Perché Perché qualcuno Scoppia da rile prima Ah ok Per quello E mi hai dato l'orecchio Ma ormai Ma donno Vai Rimassa l'ultima parte L'ultima parte Del corpo Ok La fronte La fronte Vai Devi trovare La fronte Come devi trovare Che è Dora Che dice Trova la fronte Non è che non l'ha trovata Già Gianfranco Trova la fronte La fronte Ok Vai Pronte Sai Dai No ragazzi Non c'è nessuno Dai Eh ma non vedo Necchio nello spazio Allora tu quando rivedrai questo video ti ammazzarei dalle risate Io penso che vi piccherò ma tipo malissimo Ma perché hai sbagliato un sacco di cose Sì Ti parla le mani per esempio L'hai sbagliata perché tipo io l'ho messa qua Io ero di qua Io ero convinta Io ero convinta Sì Io ero convinta Eh però non l'hai capito Io ho convinta Non l'hai capito Ah sicuramente anche voi farete un sacco di risate guardando questo video Mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate con l'hashtag fino alla fine se siete veri fan se avete visto il video fino alla fine In descrizione trovate il link per acquistare il merchandising E' proprio appettacolo E abbiamo dal vivo un esempio Un esempio Un manichino Un modello Un manichino vivente Il mio modello personale Ma è sia Ok Sì Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Ci vediamo domani con un nuovo video Perché ogni giorno c'è un nuovo video Ciao Ciao Lei non saluta Non saluta Non saluta perché è maleducata come all'inizio Sì L'ho sempre detto Devi stare anche tipo Ciao Vabbè Ciao No non puoi smontare Ciao Dai Dai ma quando non ho Tipo Follettina Chris Tipo me Cari Follettine e Follettine Ciao Chi è? Ciao Cari Follettine e Follettine Cari haters Cari haters Prova a dire Cari haters Non dico queste cose Dillo 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 Sembra una bestella Sembra una bestella Cari haters Ragazzi sto video sta durando tipo tantissimo Ma benissimo Ma no per cazzare Ma le teniamo le cazzate Do Ripeti la parola Monetizzazioni A stasera Dai saluto Allora Allora Dai beh salutiamo tutti quanti Intieme per raggiungere Con le mani Con le mani Tipo Unite pu No come interessa Ciao 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 Allora, qui ti mette? Sì, sì. Allora, qui ti mette? Sì, sì. Ben, no.